Iniziamo questa preghiera della novena. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lettura delle scritture. Apocalisse 21, 2, 4. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Preghiera. Quando Carlo ricevette la notizia della sua malattia e della sua gravità, non perse la speranza. L'ha prese con serenità, in uno spirito di preghiera. Anche se aveva solo 15 anni, non aveva paura di morire. Ha detto, non abbiate paura, perché con l'incarnazione di Gesù la morte diventa vita, e non c'è bisogno di scappare. Nella vita eterna ci aspetta qualcosa di straordinario. O mio Signore, per intercessione del Beato Carlo, oggi ti chiedo di benedirmi con i doni della fortezza e della serenità. Aiutami a non avere paura della morte, ma a vivere pienamente la mia vita in comunione con te. Aiutami a vivere di ora in ora, di giorno in giorno, e lasciare il resto alla tua cura. Prego anche per questa intenzione speciale. Confidando nella tua provvidenza e nella potente intercessione del Beato Carlo Acutis, faccio questa preghiera nel nome di Gesù e nella potenza dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. D'innanzi alla luce del Verbo e allo Spirito della Grazia, recedano le tenebre del peccato e la notte del Paganesimo, ed il Cuore di Gesù viva nel cuore degli uomini. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti